alla reggia nel castello oggi un giorno molto bello ve lo dico sul sincero perché proprio tutto vero principessa principesso come sempre accade spesso fa sapere a voi curiosi che saranno oggi sposi col suo nome lui la chiama e le giura che la ama e il prodigio è che intanto anche lei lo ama tanto insomma ci sono una principessa un principesso un re una regina una strega cattiva e poi cavalieri draghi ciambellani e ciambelle cosa c'entra una gallina niente comunque sono tutti dentro un castello alla strega piace trasformare i principi rospi come possiamo dargli torto eccolo qua e tutti sappiamo che per far tornare il rospo un principe bisogna baciarlo ma oltre a essere estremamente bruterello e verde pesa anche 85 kg e dunque cosa parla principessa a volte la felicità può nascondersi dentro un salto imprevisto ciao a tutti grazie a tutti